Si apre una settimana decisiva per il Campobasso, società in primis e di conseguenza obiettivi, strategie e decisioni fondamentali per capire quale sarà il futuro immediato e quello prossimo della prima squadra del capoluogo. Sembrerebbe quindi che entro il prossimo weekend possa essere svelata la nuova composizione del sodalizio rosso-blu che avrà in Agnello a Liberti il punto di riferimento. È chiaro che soltanto dopo la presentazione ufficiale si potranno affrontare con maggiore serietà e precisione il discorso legato all'eventuale domanda di ripescaggio in Lega Pro. Come spiegato negli ultimi giorni, l'impressione è che se si decidesse di sborsare i 250.000 euro di fondo perduto e se lo stadio fosse messo a norma in tempi utili, le possibilità ci sarebbero. Per quanto riguarda invece i passaggi burocratici dal comune di Campobasso, fanno sapere che il progetto sarà inviato ai vigili del fuoco e alconi che dovranno esprimersi prima del via libera della giunta comunale al bando di gara e all'aggiudicazione dei lavori. C'è da dire che i tempi sono abbastanza stretti. Infatti il 30 giugno gli ispettori della Lega si recheranno al Selvapiana per verificare l'impianto antincendio e quello dell'illuminazione per far sì che ci sia l'approvazione e che si possa fare il campionato ma anche un eventuale ripescaggio. A tal proposito l'assessore Maio ha sottolineato che si sta dando la priorità proprio a questo aspetto.